Jaime Origi, un mondiale di Vicenza a cui arrivi preparato e hai dichiarato apertamente di puntare ad un risultato importante. Sì, è vero. Io sono abbastanza convinto di quello che ho fatto quest'anno. Come per tutti i miei compagni di squadra, penso di aver fatto il massimo in termini di tempo, in termini di quello che un non professionista può dedicare allo sport. La gamba c'è, come si dice, no? La testa speriamo, vediamo domani. Io è da inizio anno che penso al mondiale, le altre gare certo le fai sempre impegnati al massimo, però era tutto finalizzato questa settimana. Adesso la settimana è arrivata. Ti dico la verità, non sono per niente teso ad oggi. Vediamo domani come sarà la qualifica long, che comunque è una gara introduttiva per cui c'è ancora tempo per caricarsi di emozione. Ecco, domani si rompe il fiato, poi si spera in un crescendo. Sì, diciamo che la qualifica dovrebbe essere una routine, in realtà non è così. Comunque domani bisogna impegnarsi da subito, perché gli atleti forti sono tanti, per cui si rompe il fiato, ma si rompe con la testa, perché le gambe vanno, ma se vanno dove non serve è inutile tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie. Grazie.